Amici, le fantastiche avventure Disney continuano in tutte le edicole, con i classici ogni 10 del mese, il mega almanacco che vi aspetta il 20, il 30 c'è Paperino Mese con le storie più divertenti del papero più simpatico del mondo, i grandi classici con le storie più belle di Walt Disney in edicola ogni due mesi, e con il vostro amico Topolino che vi aspetta tutti i mercoledì. E se vi abbonate a Topolino c'è un fantastico regalo, un'esclusiva cassetta Disney creata proprio per voi, per arricchire la vostra videoteca, volete saperne di più? Telefonate a questo numero!